Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ricordiamo che è chiusa l'entrata di Firenze Sud in direzione Roma per lavori fino al 13 marzo. Sulla FIPILI chiusa l'uscita di Livorno Aurelia per lavori. Su raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Su raccordo Siena-Bettolle per lavori di pavimentazione e scambio di carreggiata all'altezza di Castelnuovo-Berardenga, chiusura dello svincolo di colonna del Grillo in ingresso e in uscita in direzione Siena. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.